Da Palazzo Gradari a Pesaro Studi, da Viale Trieste alla prospettiva di un trasloco definitivo di nuovo in centro storico, presumibilmente al San Domenico. E' questa la parabola di spostamenti che si delinea all'orizzonte dei corsi universitari di Pesaro, che crescono e che devono riappropriarsi di spazi più ampi. Spazi che vanno verso un ritorno all'antico in quella sede di Viale Trieste che al giorno d'oggi mostra tutti i segni del tempo di anni di abbandono, ma che entro settembre dovrebbe essere rimessa a punto per ospitare sia i corsisti sia gli studenti della Scuola Media Liglieri nel momento in cui partirà il radicale piano di ristrutturazione dell'edificio scolastico di Soria. I corsi aumentano perché quest'anno ci sarà un nuovo corso sull'ecosostenibilità, sempre un corso di ingegneria, andranno in Viale Trieste nella vecchia sede e chiaramente sarà provvisorio perché poi l'intenzione è quella di portare l'università verso il centro storico, però in questi due anni ci sarà appunto l'opportunità per i ragazzi di essere tutti insieme sia con il corso che è partito nel 2020, sia il nuovo corso che è partito nel 2021 e adesso il corso che ci sarà sempre di ingegneria nel 2022. I corsi che ci saranno saranno nella parte di sinistra perché poi nell'altra area ci sarà la scuola che dovrà essere ristrutturata, quindi di conseguenza nell'area dove l'università occuperà gli spazi sarà distaccata dalla scuola media. Sarà a sinistra il primo piano e quindi avrà gli uffici, ritornerà ad essere l'università che era prima, però ripeto che è sempre una situazione provvisoria perché l'intento è quella poi di riportare tutto verso il centro storico. Dalla ristrutturazione di Pesaro Studi a quella del San Domenico pensata per fare una sede definitiva per l'università attraverso fondi PNRR si punta ora a creare sedi accademiche che viaggiano di pari passo a corsi che guardano al futuro, come quello dedicato ad un ingegneristico sviluppo green. È il futuro perché parliamo di ecosostenibilità con questo nuovo corso, l'università di Urbino e l'università di Ancona si sono unite per creare questo corso sicuramente innovativo. Abbiamo avuto il festival della comunicazione sabato dove c'è stata tantissima partecipazione da parte dei ragazzi, dove abbiamo anche interagito con loro, abbiamo voluto capire anche quali sono le loro esigenze e le loro idee e devo dire che emerge il fatto di tutti questi materiali nuovi, innovativi, quindi dobbiamo formare le persone pronte a entrare nelle imprese con questo nuovo modo di fare sviluppo economico.